Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! In questo video parliamo di come pronunciare le consonanti doppie in italiano. Tutti sappiamo che le consonanti doppie in italiano sono molto importanti perché la loro presenza cambia il significato di una parola. Ad esempio, sette non è la stessa cosa di sete, sono due parole diverse. Tonno non è la stessa cosa di tono, cappello non è la stessa cosa di capello. Riuscite a sentire la differenza di pronuncia? Per alcune parole è veramente vitale pronunciare la consonante doppia. Per esempio, per parole come anno e penne, quindi l'anno scolastico e le penne per scrivere. Sono sicura che avrete molti aneddoti da raccontarmi su questo, sentitevi liberi di lasciare un commento qui sotto. Oggi quindi voglio parlarvi di un piccolo trucco con cui potete esercitarvi per imparare a pronunciare le consonanti doppie o semplicemente per dare l'idea a chi vi ascolta che voi le stiate pronunciando. Prendiamo ad esempio la coppia di parole palla, pala, palla, pala. Per pronunciare la doppia L in palla, devo allungare il suono di questa lettera e dare minore enfasi alla vocale che la precede. Quindi in questo caso la lettera A, palla, palla, il suono della A deve restare breve, mentre il suono della L deve essere allungato. Palla. Al contrario, per pronunciare una sola L nella parola pala, pala, quale suono devo allungare? Il suono della A, quindi devo dare maggior enfasi alla lettera A, non quindi alla lettera L. Palla. Quando vi esercitate non abbiate paura di esagerare la pronuncia e il movimento della bocca. Secondo le informazioni che vi ho appena dato, dobbiamo pronunciare palla, pala, palla, pala. Facciamo un altro esempio con la coppia di parole cassa e casa, cassa, casa. Qui abbiamo anche una diversa pronuncia della S. La doppia S risulta in un suono sordo, la A è breve e tutta l'enfasi è sulla S. Cassa, cassa. Quindi non dico cassa, cassa, no, cassa, cassa. Una sola S, in questo caso tra due vocali, risulta in un suono sonoro che assomiglia ad una Z. La lettera A che precede la S è allungata. Casa, z, casa, casa. Quindi per pronunciare bene una parola con una consonante doppia, qual è il trucco? Il trucco è allungare il suono di quella consonante e mantenere il suono della vocale che la precede per il minor tempo possibile. Quindi provate ad esercitarvi così e fatemi sapere come va. Ok? Grazie mille, come sempre, per aver guardato questa lezione. Spero che vi sia utile. A presto! Ciao!